Salve a tutti i martiri! Adesso faremo una recensione della cassa NB portatile dell'IKEA. Cos'è la cassa? Io l'ho già attrezzata con il cordino così da poterla portare in giro. La mettete così e così sta in piedi. Ora la appiccate qui e così potete portarla in giro. Mentre se voi volete metterla in piedi, cioè su un tavolino, ci avete il tappo di suvero. Lo prendete e lo afficcate qua dentro e lo spingete all'interno proprio così. Dura a forza, probabilmente questo qui è plastica, comunque questo qui è suggero. E comunque, così sta in piedi, così. E sta in piedi così. Oppure c'è anche i piedini qua sotto che potete fare sta in piedi proprio dritta così. Anche con il tappo di suolo, tanto non è che pesa tanto. E poi gliela rimuovete pesantemente. Allora, insieme alla confezione vi danno solo un filo, solo un filo, per ricaricare. Niente batteri e nulla. Anche perché la bellissima funzionalità di questa cassa è il fatto che voi prendete delle pile alcaline AAA, le mini stilo, da 1.5V. In realtà sul manuale c'è scritto da utilizzare con 1.2V. Però noi ce la dobbiamo sbettare direttamente alle palle. Tanto nel fondo con 1.5V dà più potenza. Un pochettino più potenza. Speriamo che non si rompa la cassa del tutto con le pile alcaline. Perché vanno utilizzate le pile ricaricabili in IMH. Praticamente la bella funzionalità di questa cassa qui è che non è che fate come le altre casse che le prendete e poi dopo si rompono. Cioè non è che si rompono, si scaricano e poi le dovete ricaricare. Quindi aspetti che si carica, lascio caricare tutta la notte, gli spreca energia. No, la bellissima cosa di questa cassa qui è che prendete tre mini stilo, gliele sbattete proprio dentro così e quella va, quella funziona. Si scaricano le pile, si scarica la pila, togliete praticamente le pile, gliele sbattete altre tre all'interno e quella va, quella continua a funzionare. Non c'è bisogno di aspettare nulla, non c'è bisogno di aspettare. A proposito, com'è che si fa a cambiare le pile? Semplice. Qua c'è il pulsantino, queste vanno le pile, apritelo così, così di mala forza, quando l'ho attaccato e qua ci sono le pile. Un po'... Ebbè, l'unico problema è che sono un po' appiccicato all'interno, quindi un po'... Però comunque, le prendete, fate così. Maledizione. Eccolo qui, è uscito. Fate così, ne prendete una. Fate finta che io le sto cambiando tutte e tre, adesso sono tutte belle spiaccicate all'interno perché è un po' stretto il luogo. Ne prendete un'altra e poi alla fine prendete... E ricordatevi sempre del meno del più. In questo caso vanno messo così, con il più rivolto verso il fuori. E poi alla fine gliele spiaccicate qui all'interno, gliele sbattete qui all'interno, ecco. Gliele sbattete qui all'interno, poi praticamente potete... Scusate, scusate un attimo eh. Scusate, ho fatto un accrocchio. Allora comunque, tornate. Poi alla fine, per metterlo all'interno, basta solamente... Scusate. Qua c'è un po' di problemi. Allora, praticamente lo spettate all'interno, glielo sgricciate così e poi alla fine glielo mettete apposta. Fatto, finito. Non c'è bisogno di aspettare che si carica la cassa. Naturalmente funziona per un bel po' di tempo la cassa. Per cui è un 3 watt, quindi funziona per un po' di tempo. E basta, finito. Cioè voi l'avete fatto. Poi vabbè, per accenderla, pulsantino, unico tasto. Non c'è bisogno di regolare il più, il meno, il meno, il più. Si regola dal cellulare. Schiacciate. Ok. E così si è accesa la cassa. Adesso vi faccio sentire come si sente. Naturalmente 3 watt non è nulla, però comunque... Scusate un attimo che adesso devo mettere un nuovo dispositivo. Ehm... 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 Scusate un attimo. Adesso vi faccio sentire come si sente la cassa. Perfetto. Perfetto, si è accoppiato. Scusate, sono io che non sono buono con i dispositivi. Adesso... Sentite. No, 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 no. Non abbiamo capito. Un po' gracchiato. Ehm... 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 Però... Però funziona. L'importante è che funzioni. Poi vabbè. Per spegnerla. Perfetto. È già spenta. Perfetto. La funzionalità più bella, a parer mio, secondo me, è proprio per il fatto che voi potete utilizzare le pile alcaline e le sbattete all'interno e poi quella funziona. Vi... Non c'è... Non vi portate dietro power bank che pesa una tonnellata e mezza. Praticamente prendete delle... Sono normalissime le pile alcaline, le trovate in tutti i negozi e ci sono. La prendete e le sbattete all'interno. Proprio così. Spam! Proprio così. Spam! E poi... Fatto. Questa qui è forse la più... La cassa con... Questa funzionalità qui forse è una delle più funzionali, a parer mio. Una delle... Delle più utili. Questa funzionalità qui è proprio utile. Salve a tutti i morti.